Siamo all'Antoniano, dove il piccolo coro prova. Entriamo e andiamo a vederli. Ah, ma dov'è il piccolo coro? Siamo noi il coro! Ma come siete voi? Io di solito me ne ricordavo più piccoli. Beh, ma non si è anche asciuti molto. Ma una domanda sorge spontanea. A che coro siete? Siamo i vecchioni di Mariele. I vecchioni? Cioè? Spiegatemi. Basta guardarci. Siamo degli ex bambini di Mariele Ventre che abbiamo cantato tutti nel piccolo coro in quel periodo. Parliamo di fine anni Sessanta, inizio anni Settanta. E un po' anche. E un po' anche. E un po' anche, va bene. Qualcuno è un po' più giovane. E niente, abbiamo ricominciato a trovarci da tre anni. E ci piace cantare le canzoni che facevamo da bambini, quelle che Mariele ci ha insegnato e che tuttora ci ricordiamo. Bene, allora io vi svelo un segreto. Vi avevo già visto e vi sono venuto a vedere alla chiesa. Adesso manderei un video dove avete cantato, così vi facciamo conoscere. E poi dopo torniamo qua e vi faccio qualche altra domanda. A dopo. Ok, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.